E questo, e poi anche chi organizza ad esempio cose, capito, per i vigoli delle città Oh bi, oh, c'è forse uno che mi sa chiede, che cazzo, regà, però vi voglio bene Va bene, la prossima volta Va bene, te li leggo io, Dudu Ok Te li leggo e tu rispondi, fammo così Va bene Momento posta Dai Allora, queste lettere vengono direttamente da persone che ti seguono e ti seguivano Sara Ok, mi seguivano perché hanno smesso, ma io sto anzi No, te seguono ancora, però Sara Noi dici Sara Ok Sara Non so perché sono emozionato, ma vediamo Vediamo Sto cercando di guardare Scusate Sara Sara scrive Ciao Dudubi Ciao Sara Sono Sara e ti seguo da molto Vorrei sapere cosa non sopporti del web Sara, cosa non sopporti del web Dudubi? Cioè, ultimamente mi sto concentrando molto sulle cose che non mi piacciono di Twitch Certe dinamiche, magari di false amicizie, di oggettificazione di donne Grazie bello Eh, non c'è altro niente Sì, che magari una fa un po' dei numeri e viene subito etichettata in un certo modo Cioè, già la figura della donna nel mondo è vista in un certo modo Pure su Twitch è una trasposizione di come la donna viene vista nel mondo, no? E sono queste le cose che più mi fanno schifo ora, perché le noto accanto a me Allora, sto a parlare con te Ma io ti sto ascoltando, ho capito, che devo fare? Cioè, hai capito? Ci sono dei problemi sociali, secondo me Ma tu non pensi che sono anche molte donne che vogliono esporsi in un determinato modo? E tu non te vuoi esporre in un determinato modo? Ognuno si espone come vuole L'amore viene da qualsiasi parte del mondo Puoi te saresti un arrampicatore sociale Hai solo una personalità che ti piace, conosce gente Vabbè, però dipende dai modi, frate Perché, cioè, io, comunque forza Roma, eh Cioè, ci sono dei modi che sai pure tu Che certe persone, non è che stanno con te con piacere Stanno con te solo perché vogliono grattà qualcosa da te E quello a me mi dà fastidio Lo fanno anche i maschi, ma non viene condannato in un maschio No, pure il maschio viene condannato Nella donna viene condannato a prescindere No, a prescindere no, sì Secondo me c'è un problema di questo tipo nel mondo Vabbè, andiamo con la seconda Poi c'è pure Flavietta, vabbè, magari hai scritto te Dario Sboccia Dario Sboccia Dario Sboccia, secondo me, è un grande Dario Sboccia, un saluto a Dario Sboccia Ciao Dario Lettera per due dubbi Allora Dario Sboccia, non si apre Ma chi è cazzo? No, no, fatto, fatto Dario Sboccia Sboccia Ciao YouTube fa cagare E iniziamo malissimo Grazie Mi dici tre personaggi che non vorresti sul web? Verità Chiunque dovrebbe, cioè, ne stiamo pure a parlare fuori mo' Nel senso, cioè, chiunque ha il diritto di andare sul web E di creare il proprio show Io non, cioè, se dovessi eliminare qualcuno Vorrei che si rendesse conto lui stesso dei danni che sta facendo E scegliesse lui di coscienza di smettere di fare quello che sta facendo Ma io non sono mai stato, beh, devo impedire le cose alle persone Al limite le faccio, non ci parlo Però secondo te andrebbero levati, come già ha fatto Twitch, gli streamer fanno solo esclusivamente casino? Sì, se uno fa solo esclusivamente gioco d'azzardo, assolutamente Cioè, ma ho uscito pure il decreto degnità, insomma, non si può sponsorizzare il gioco d'azzardo Molti streamer, content credo, sono paraculati sponsorizzandolo e pubblicizzandolo E poi anche chi organizza, ad esempio, cose, capito, per i vicoli delle città Per dire, quelli non mi piacciono Però per quanto riguarda il casino, eccetera, eccetera Molti dicono, eh, vabbè, però il casino dà lavoro a tante persone Perché ti rispondono così, eh Anche la schiavitù dà lavoro a tante persone Ma è, vuol dire, sì, è una tempesta, cioè, mi hai fatto dei sempli Per dire, la prima cosa che mi è venuta in mente Se no ti devo dire tutti i danni che fa il gioco d'azzardo A livello psicologico è stato osservato che è come una droga pesante Per quello che ti fa dentro, come ti rovina la vita Ma l'eccesso, l'eccesso di qualsiasi cosa fa sta cosa Sì, ma per come è strutturato il gioco d'azzardo Lo sanno benissimo, quei bastardi che lucrano sulle debolezze psicologiche delle persone Te basta fare la slot per poi passare ad altro Non è come di, vabbè, te fai la sigaretta e poi te fai de' eroina Non è vero, non è osservabile Ma si vede proprio una persona che entra nel vortice Capito? E ormai ci sono troppi esempi per ignorare il problema Secondo me Ma sai cosa penso? Come quando giocano E dicono, però voi non lo fate Però non funziona questa cosa Perché ti arriva un messaggio indirezzo Guarda, sono un influencer Tutta la mia, il mio lavoro è la mia cosa Capito? Era un influencer, no, per dire Quello che fa lo slot Influenzo le persone È il mio lavoro Tranne quando gioco d'azzardo Lì non le stai a influenzare A paraculo Sì, perché la gente si salva con Eh, però Ma io non sto sponsorizzando No, però non lo fare Eh certo Sì, grazie Ma se tu vinci Fai di te che vinci Comunque il messaggio indiretto che arriva è Ho vinto le slot Capito? Certo E spesso ci hanno magari cose Oh, oh, oh Vi hanno un po' Vi hanno un po' Ci hanno rubato delle lettere Ci hanno levato un po' Perché dura troppo Perché parlo troppo Dai No, è vero Sì Dai Grazie regia Francesco Primo Otto Ok Si chiama così Ah, perché io avevo detto Che non facevo il nome Invece li faccio tutti Prendetevi Qua sono le responsabilità Come tra i tuoi dubbi Cosa ne pensi del caso Greenboard Kokeshi? Guardatevi la live Per dove ne parliamo Perfetto Stretto e lineare Stretto e lineare Prossima Pietro Olivieri Se ci stai guardando È il tuo momento Ole Te come stai Flavia? Sei fidanzata? No, no Basta Questa riposa un attimo Ha consegnato le lettere fino a mo' Ha fatto una fatica Mamma mia Sto a piedi poi Poi è tutta sudata Tutta sframenta Che c'è giù? Ma ho visto che c'è la lettera per me Sì, lo so Eh, magari Giulia Bizzarri E quanto manca? Eh, lo so Ce n'ha un po' Dudubi Vabbè, mi siete là Eh, siete là vicino Ah, giù Giù E qua Secondo te la postina Bravo, aiutami Guarda che te sento Ma non me senti Sta a due centine Uno da scritto Provocazione di Pietro Olivieri Ma due dubbi Ma due dubbi Esiste ancora? Cosa rispondi? Fanculo Olivieri Perché ho smesso di pubblicare roba su Instagram da tanto tempo Perché mi sono stufato di farlo E ho stufato a tutto un lavoro spirituale mio che è molto legato all'identità e molto legato al mio ego E non voglio mostrare un me falso come ho fatto in passato Quindi per ora piuttosto di fingere non posto niente su Instagram Ma giusto Ma ti ricordi quando A me una volta mi era successo su Instagram Ma ti ricordi quando A lui hanno fatto il profilo morto Che eri morto Sì Il profilo commemorativo No, raga, io faccio così Ah, il coglione Il profilo morto Dopo mi hanno fatto a me Ah, vedi, la ruola gira Subito, subito Aspetta Prima che bevo la Rubin Cola Flavietta Andiamo a dice Flavietta Che c'è Giù? Famiglia, quando la leggo? Ma te la leggo Ma te la leggo Faccio questo Dopo questa Dopo questa leggo Giulia Bizzarri Do dubbi ti amo Non posso dirti altro Grazie Flavietta Ti ama Anche io l'amo Viva l'amore L'amore è ovunque Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti